Senza emodinamica H24 si muore così il sindaco di Termoli Roberti dopo il ripristino delle prestazioni. L'avvocato Venitelli parla di interruzione di pubblico servizio dopo il decesso di un 58enne che dice ha trovato il reparto chiuso. Al via anche a Campobasso la campagna vaccinale per i bimbi d'età compresa tra 5 e 11 anni. L'appello di una mamma, vaccinate i vostri figli, polverizzate le prenotazioni per il Baby Vaccino Day con Babbi Bikers di domenica al Cardarelli. Isernia si divide sull'8-0, online anche una petizione per esprimere parere favorevole all'infrastruttura, intanto nelle prossime ore Anas indirà la gara d'appalto. Cocaina in macchina, Ashish a casa, i carabinieri incastrano un trentenne di Campobasso. Yeltsin Lutto per la scomparsa del sindaco D'Amico aveva 70 anni e era alla guida dell'amministrazione dal 2012, tanti messaggi di cordoglio. Calcio Lega Pro, Campobasso atteso dalla sfida salvezza col potenza, domenica vietato fallire. Bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleregione, la sanità, uno dei tanti problemi della sanità in apertura del nostro OTG, l'emodinamica termoli senza quel reparto attivo H24 si muore, dice il sindaco Francesco Roberti dopo che il servizio è stato ripristinato e dopo la pronuncia del TAR. L'Avvocato Venitelli parla invece di interruzione di pubblico servizio in relazione alla morte per infarto di un 58enne che ha trovato, dice, il reparto appunto chiuso. Tutti i dettagli nel servizio di Pierluigi Boraggine. Il TAR molise da 45 giorni di tempo a LASREM per spiegare quali sono i motivi che hanno indotto l'azienda a ridurre l'attività da settembre a dicembre. I giudici amministrativi con ordinanza cautelare hanno deciso per la piena funzionalità del servizio che ultimamente funzionava a singhiozzo e ritenuto che la vicenda vada approfondita nel merito in considerazione, si legge nel provvedimento, della delicatezza degli interessi coinvolti e della possibile ulteriore reiterazione da parte dell'amministrazione di provvedimenti di contenuto analogo a quelli impugnati. Il TAR ha deciso di andare fino in fondo, ha detto il sindaco Francesco Roberti, che questa mattina ha convocato la stampa per fare il punto della situazione. Per la prima volta il TAR vuole far luce su questo utilizzo dove in qualche maniera emodinamica non è stata aperta H24 e purtroppo abbiamo avuto anche la perdita di un nostro concittadino dovuto proprio alla chiusura di emodinamica. Questo ci era triste, in qualche maniera siamo stati profeti purtroppo che l'utilizzo di una struttura di un reparto di emodinamica che non garantisce H24, i pronti interventi, si rischia di mettere in pericolo la vita umana. Il basso Molise paga sempre d'azio, noi vigileremo e lotteremo, ha aggiunto Roberti con accanto il presidente del consiglio Annibale Cerniello, il vice sindaco Enzo Ferrazzano, gli assessori Mottole, Barile e i consiglieri Marone, De Guglielmo, Balice, Malorni e Miele. Noi siamo dovuti arrivare al Tar per far comprendere che questa area geografica del Molise ha gli stessi diritti di altre aree geografiche, l'abbiamo sempre detto che è l'unico punto di riferimento il Santimodio per la salute del basso Molise, ancora una volta chi paga d'azio è il basso Molise, questo non può essere e non potrà essere, per cui noi qualunque azione necessaria a tutelare l'ospedale Santimodio la metteremo in campo ma soprattutto perché quello che ci sta più a cuore è il diritto alla salute di questa area e dei cittadini di questo territorio. Una vicenda al centro di un ricorso presentato dall'associazione Cuore Molisano, cui si sono uniti il sindaco e i consiglieri di maggioranza del comune di Termoli come privati cittadini. Laura Venitelli invece è la legale della famiglia di un 58enne che a ottobre ha perso la vita a causa di un infarto. Venitelli parla di interruzione, di pubblico servizio e andrà fino in fondo per avere giustizia. Dopo la morte di una persona di 58 anni, Termolese, che viveva a Termoli, nella sua attività a Termoli, che muore perché non è stato assistito nei canonici 90 minuti dal momento in cui l'infarto si era verificato ed era stato accertato, dopo quell'episodio è chiaro che il Termolese non poteva emettere un provvedimento identico a quello che era stato già emesso a dicembre, il 2 dicembre del 2021. Perché oggi abbiamo il caso conclamato di una persona che arriva al pronto soccorso e dopo aver fatto la sua accettazione, nel diario clinico noi leggiamo nota bene, emodinamica è chiusa, nota bene, emodinamica non è in funzione fino a domani mattina alle 8. Adesso l'emergenza coronavirus, partiamo dalla campagna vaccinale stesa proprio da qualche giorno ai più piccoli, ai bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, al via da oggi le inoculazioni a Campobasso, Venafro, Termoli e Agnone. Noi siamo stati al punto vaccinale in via Toscana a Campobasso, c'era apprensione fra i genitori, fisiologica, ma genitori comunque convinti della scelta. Ci dice tutto Samantha Ciarla. Alle ore 9 di questa mattina l'ambulatorio di via Toscana a Campobasso ha aperto le porte per immunizzare i bambini della fascia di età 5-11 anni. Somministrazioni concluse prima del previsto, visto il mancato rispetto dell'orario di prenotazione da parte di qualche genitore che si è presentato all'appuntamento con largo anticipo, cosa che ha generato un po' di fila, ma nel complesso tutto è filato liscio. Apprensione da parte dei genitori presenti che comunque si sono detti convinti della scelta fatta. Signora, sua figlia si è appena vaccinata. Una scelta convinta? Sì, convintissima per tutelare la sua salute in questo periodo di pandemia e per tutelare tutte le persone che sono con lei. Sì, mi fido tantissimo della scienza, del mio pediatra soprattutto. Infatti sono passata prima dalla pediatra per avere un'ulteriore parere e poi sono venuta qui in massima tranquillità. Vaccinate i bambini! Per assicurare i più piccoli è stato allestito un ambiente accogliente e sereno, un cappellino di Babbo Natale per il personale sanitario per rendere più agevole la somministrazione della dose di vaccino anti-covid. Intanto si prepara ad accogliere i bambini anche il centro vaccinale dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove domenica 19 dicembre dalle ore 9 alle 19 è prevista la somministrazione di 250 dosi di vaccino Pfizer e dove ci saranno anche Babbi Bikers, Clown e giocolieri. Anche per i bambini la seconda dose di Pfizer, ridotta a un terzo per questa fascia di età, sarà somministrata a 21 giorni di distanza. E adesso l'ultimo bollettino diramato dall'azienda sanitaria regionale, un decesso, in terapia intensiva, si tratta di un 68enne di Colli a Volturno che aveva altre patologie, un ricovero in malattie infettive, un paziente di Campobasso, tre dimissioni. I degenti al Cardarelli sono 8, 6 non sono vaccinati, 33 invece i nuovi contagi, 5 a Montenero di Bisaccia, 4 a Petrilla di Fernina e Campobasso, su 561 tamponi refertati, positività che sale al 5, 9%, 5 guariti, scusate, così i casi attualmente positivi sono 229. Il procuratore di Campobasso Nicola D'Angelo ha chiesto al GIP una proroga nell'ambito delle indagini sulla gestione dell'emergenza Covid. Sono numerosi i filoni dell'inchiesta dal funzionamento dell'impianto dell'ossigeno al Cardarelli alla scelta sulla localizzazione del centro di cura per i malati di SARS-CoV-2, il centro Covid. Alcuni spunti investigativi sono andati anche dagli esposti, dei familiari, delle vittime che attraverso i propri legali ora fanno sapere, attendiamo fiduciosi gli sviluppi, preannunciamo che verrà depositato un altro esposto per i ricoverati per patologie tempo dipendenti, poi deceduti per aver contratto il Covid durante il ricovero al Cardarelli. Cambiamo argomento, il lotto zero Isernia si divide online, c'è anche una petizione per esprimere parere favorevole all'infrastruttura. Intanto nelle prossime ore l'ANAS indirà la gara d'appalto. Nicola De Santis. Dopo il consiglio monotematico sull'otto zero durante il quale il sindaco Piero Castrataro ha ribadito la propria contrarietà alla realizzazione dell'opera, in città l'opinione pubblica sembra divisa tra coloro che sono assolutamente contrari all'infrastruttura e chi invece ne chiede confermezza alla realizzazione. Tra le ragioni degli oppositori c'è la tematica ambientale. La strada deturperebbe il paesaggio oltre a rappresentare una minaccia per le riserve d'acqua della città. Inoltre i costi, circa 170 milioni di euro, sarebbero sproporzionati rispetto alla lunghezza del tracciato e dai benefici per il traffico. Coloro che invece sono fermamente convinti della necessità di realizzare il lotto zero ritengono l'opera indispensabile per decongestionare Viale dei Pentri, per accorciare le distanze tra Abruzzo e Molise, per dare respiro all'economia, perché 170 milioni di euro rappresenterebbero una boccata d'ossigeno per un territorio agonizzante. Su internet a tal uopo è stata lanciata una petizione nella quale si legge che la nascitura arteria stradale è essenziale non solo per la comunità di Sernia ma per l'intera regione molise, perché consentirebbe il totale sfruttamento del collegamento rapido con l'Abruzzo. Peraltro si tratta di un'infrastruttura che giunge alla conclusione con notevole ritardo ed è un'opera che ha visto superare molti ostacoli legati sia alla valutazione di impatto ambientale che è durata circa cinque anni, sia allo studio idrogeologico per la protezione della falda acquifera, essenziale per la città di Sernia. Il tracciato infatti è stato scelto dopo l'analisi di più alternative e sulla base di dati tecnici a difesa delle caratteristiche ambientali della zona, ragioni queste che hanno portato alla lievitazione dei costi. Inoltre, oggi come oggi, per raggiungere Castel di Sangro ed il centro dell'Abruzzo, partendo ad esempio dall'area matesina, occorre passare nel pieno centro di Sernia superando un lungo tratto di strada cittadino composto da ben quattro rotatorie, una circomballazione e quattro bivi con la formazione di code chilometriche, composte da autotreni, bilici ed autoveicoli. Queste le ragioni portate dai sostenitori dell'8-0 per invitare i cittadini a sottoscrivere la petizione. Al di là delle polemiche legate alla realizzazione dell'opera, l'impressione è che ormai si sia avviato un processo irreversibile, con l'ANAS che ha già provveduto agli espropri, ha rimosso la vegetazione dal tracciato ai fini della bonifica bellica e nelle prossime ore indirà la gara d'appalto. Deteneva cocaina e hashish in casa e in auto, è stato arrestato dai carabinieri un trentenne originario di Campobasso, ma residente del Basso Molise, che aveva deciso di integrare così i suoi guadagni, dandosi allo spaccio di sostanze stupefacenti, a insospettire i militari durante un controllo, l'atteggiamento nervoso del giovane che ha cercato di disfarsi della droga che era nella sua auto, di qui la perquisizione poi domiciliare, dove i carabinieri hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente, materiale idoneo per il confezionamento, due bilancine di precisione e tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale. Il trentenne agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, così come disposto dal sostituto procuratore di turno di Campobasso. E proseguono senza sosta le ricerche che finora però purtroppo non hanno ancora dato esito di incoronata Sebastiano, l'anziana scomparsa lunedì 6 dicembre a Boiano. Le attività di ricerca coordinate dalla Prefettura di Campobasso stamattina si sono concentrate nei pressi dell'abitazione della 72enne. I vigili del fuoco del capoluogo si sono soffermati in particolare nella verifica dei pozzi presenti nella zona utilizzando delle elettropompe. Squadre di terra invece sono impegnate in aree che finora non erano state battute. L'immigrazione è un fenomeno inarrestabile, ha detto a Campobasso l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Lo abbiamo intervistato. Ascoltate. Il mio comune ha trasmesso un messaggio di umanità al mondo, nonostante le difficoltà del territorio, nonostante i tentativi per fare sopravvivere le nostre comunità, dallo spopolamento, dal declino democratico, dalla chiusura dei servizi. Le nostre comunità sono comunità morenti eppure l'immigrazione non solo è stata un'esigenza dell'anima ma anche ha avuto la forza per creare speranze, per immaginare un futuro possibile. A Campobasso Mimmo Lucano difende il modello Riace, un modello di accoglienza e integrazione che ha lasciato il segno. L'accoglienza per me, ha spiegato, è stato un fatto spontaneo, un fatto istintivo che non ha bisogno di ragionamenti. C'è stato questo tentativo in Calabria, ma in Italia, di criminalizzare la solidarietà, di aggredire quello che poteva essere un gesto del tutto normale. Avere un impulso dell'anima e tendere la mano verso chi è in difficoltà. È un fatto istintivo, non c'è bisogno di tanti ragionamenti. Invece noi abbiamo assistito, credo che è come una deriva, c'è una perdita della dimensione umana. Il convegno intitolato Accogliere per Rigenerare, svoltosi presso la Sala Celestino V della Curia Vescovile di Via Mazzini e coordinato da Antonio Ruggeri, direttore del Bene Comune, è stato dedicato alla rinascita e alla valorizzazione delle aree interne e in particolare di quelle molisane. L'ex sindaco di Riace ha spiegato che il tema dell'immigrazione sarà inarrestabile, le persone sono in fuga dalle guerre, dalla fame e dalle forti ingiustizie del mondo. Il 30 settembre il Tribunale di Locri lo ha condannato in primo grado alla pena di 13 anni e due mesi di reclusione. I giudici lo hanno ritenuto colpevole di associazione per delinquere e di varie ipotesi di peculato, truffa aggravata, falso e abuso d'ufficio. Prima di lasciare il Molise, Lucano ha ricordato l'incontro con Giancarlo Bregantini, un incontro che ha cambiato la vita. Mi trovo davanti alla persona che da vescovo di Locri mi ha coinvolto in una storia che è diventata poi la ragione della mia vita e puoi immaginare qual è il livello di emotività che questo incontro per me ha il significato profondo di questo. Sono contentissimo che ci sia stato questo incontro in una terra come da Locri, io da sindaco, lui da vescovo. Credo che sono strade che si sono incrociate ed è nata una storia che ha trasmesso un messaggio evangelico al mondo. Il Comune di Castelbottaccio ha conferito la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano perché ha saputo fare dell'accoglienza e della solidarietà un modello di sviluppo e di rigenerazione di una comunità. Per vent'anni a Riace Mimmo Lucano e i suoi concittadini, si legge nella nota del sindaco Nicola Marrone, hanno dato vita a un'esperienza amministrativa, politica culturale, civile e straordinaria che si è dimostrato determinante per creare più posti di lavoro, riqualificare il territorio e frenare lo spopolamento e il degrado urbano facendo diventare Riace, modello di rigenerazione delle aree marginali studiato e apprezzato in tutto il mondo. Le commissioni sanitarie che certificano l'invalidità passano all'unanimità. La proposta del Movimento 5 Stelle tra i primi firmatari, Angelo Primiani, prevede questa mozione di passare a un'intesa fra l'ASREM e l'INPS che farebbe risparmiare, dice Primiani, tempo e 250 mila euro. I particolari del servizio. In Molise le commissioni mediche incaricate di svolgere gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità sono sei, due per ogni distretto sanitario con i componenti che restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La legge stabilisce che i membri delle commissioni abbiano competenze in materia di medicina legale, ma con la carenza di personale che grava sulla sanità regionale, questa condizione rende difficile la loro nomina. A puntare nuovamente ai riflettori sui ritardi delle commissioni e sul loro costo, gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, che allo scopo di superare lo stallo amministrativo hanno portato in aula una mozione che prevede la stipula di una convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, al quale affidare l'espletamento dell'attività, come del resto, accade quasi ovunque in Italia. Accade che in Molise vi sono cittadini, soprattutto cittadini anziani, che fanno domanda e questa domanda viene soddisfatta solo un anno e mezzo dopo. È accaduto infatti che alcuni cittadini sono stati convocati a distanza di un anno e mezzo dall'invio della domanda e il paradosso è che questi cittadini erano addirittura deceduti. Non è accettabile tutto questo, non è accettabile ancora di più se consideriamo che le commissioni mediche incidono sul bilancio regionale per 800 mila euro annui, quindi una spesa cospicua. Abbiamo chiesto al Presidente Toma di valutare la sottoscrizione di una convenzione con l'Inps per affidare alla stessa Inps l'erogazione di questo servizio. La mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio e dunque l'accordo una volta raggiunto accelererebbe i tempi e non solo. Grazie alla convenzione tra Asrem e Inps infatti ci sarebbe anche un notevole risparmio di denaro pubblico stimato in circa 250 mila euro l'anno. Il tema sarà ora al centro dei lavori della quarta commissione permanente. E' morto stamattina all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza il sindaco di Ielsi Salvatore D'Amico. Il primo cittadino aveva 70 anni ed era alla guida dell'amministrazione comunale dal 2012. Era stato rieletto nel 2017 per il secondo mandato. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dalle istituzioni locali tra cui quelli dei sindaci di Campobasso e Vinchiaturo. Torna all'appuntamento col Gran Galà di Capodanno all'auditorium di Isernia il 2 gennaio. Oltre alla parte lirica e sinfonica quest'anno ci sarà anche la danza classica. Previsto inoltre un premio per i talenti musicali molisani. Vediamo. Torna a Isernia l'appuntamento con il Gran Galà di Capodanno il 2 gennaio sul palco dell'auditorium. Sulla scia dei concerti viennesi ci sarà spazio per la parte lirica. Per quella sinfonica e novità di quest'anno anche per la danza classica. Dopo la parentesi legata al Covid in questa edizione torna anche il premio riservato ai talenti musicali molisani che si sono fatti apprezzare nel mondo. Finalmente riprende dopo il Covid con la quarta edizione e che avrà come premiati il baritono Donato di Gioia alla carriera. Donato di Gioia è un baritono attualmente attivo in tutti i teatri del mondo ed è uno dei vari rappresentanti delle eccellenze molisane nel mondo dell'opera. E poi avremo un soprano di origine isernina, Lorena Grazia Scarselli, che è un giovane soprano lirico leggero, che ha vinto negli ultimi anni moltissimi concorsi internazionali e si sta affacciando nel panorama lirico internazionale con esibizioni di alta qualità e ne avrete spero la possibilità di ascoltarla, ne vale davvero la pena. Avremo l'orchestra sinfonica regionale del Molise con tutti i musicisti molisani. Il Gran Galà di Capodanno è organizzato da Paolo Bartolucci e da Simone Sala. I due artisti hanno voluto elevare il livello della manifestazione nella certezza che il pubblico molisano risponderà con entusiasmo, come avvenuto dell'arresto in passato. Per gli amanti del genere si tratta di un evento imperdibile. E ancora una volta, io e il maestro Bartolucci, con l'aiuto dell'associazione Leomai, delle aziende, di tutti quelli che credono nei prodotti culturali, in quella che è la bellezza della cultura e nella comunicazione della stessa, abbiamo voluto mettere insieme un parterre che secondo me è di grande qualità. Sul palco ci sono più di 40 persone, ci saranno il 2 di gennaio per un concerto di Capodanno che è un po' sulla traccia viennese, ma un po' anche su una traccia scelta da noi, dove c'è una parte sinfonica, una parte lirica, dove il repertorio comunque non vuole appesantire quello che è un momento già difficile per tutti quanti, ma anzi un momento proprio ricreativo, ludico, però sempre raffinato. E' stata deposta a San Felice del Molise, suo paese d'origine, alla presenza del sindaco, dei congiunti e del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso, una corona dall'oro in ricordo della tragica scomparsa di Antonio Zara, eroe della Guardia di Finanza, barbaramente ucciso a soli 20 anni il 17 dicembre 1973 in un attentato terroristico all'aeroporto di Fiumicino, decorato con medaglia d'oro al valor militare. Il mondo del volontariato, insieme a quello dell'istruzione, l'Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente di Termoli ha donato un'arnia didattica all'Istituto Agrario di Larino. La scuola, grazie alla collaborazione con la sezione provinciale dell'Associazione di Termoli che ha donato l'arnia, arricchirà in questo modo la propria offerta formativa con l'insegnamento dell'apicoltura. La materia sarà insegnata agli studenti nell'ambito di un progetto che porterà alla produzione di miele in proprio. A fare gli onori di casa il professor Daniele Gagliardi, docente dell'Agrario di Larino. Aprirà i battenti domenica 19 dicembre alle 11 e resterà aperta fino a giovedì 6 gennaio 2022 al Museo dei Misteri di Campobasso in Via Trento, la mostra dei presepi, la rinascita di Giovanni Teberino. Una tradizione che si rinnova ogni anno grazie alla passione e alla dedizione di Giovanni Teberino per il presepe. Rinnovati materiali, forme e dimensioni ricostruiranno e reinventeranno la tradizione del quadretto sacro più semplice e più amato al mondo. La mostra è visitabile in questi orari, nei giorni feriali dalle 16 alle 19, nei festivi dalle 10 e 30 alle 12 e 30 e poi dalle 16 alle 19. E adesso le previsioni del tempo. Previsioni del tempo per sabato 18 dicembre. La coda di una veloce perturbazione in discesa dai Balcani raggiunge la nostra regione portando un moderato aumento dell'instabilità. Con qualche breve pioggia, acquazione, fiocchi di neve sui rilievi sopra i 600 metri. Temperature in diminuzione, vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 1, massima 6 gradi. Isernia 2,9. Termoli 8,9 gradi. Venafro 2,13 gradi. Il meteo è stato presentato da Jerry, dulci bontà dall'Alto Molise. La pasticceria per i palati più fini, per un Natale ricco di sapori. Breve pausa per noi. Fra pochissimo lo sport. Il calcio di Lega Pro, il campo basso è atteso dalla sfida salvezza col Potenza. Domenica è vietato fallire. Il servizio. Vietato fallire, inutile girarci intorno. Il campo basso non può perdere a Potenza. In palio ci sono punti pesantissimi per la lotta salvezza. Scontro tra disperate, quello in programma domenica, due squadre in difficoltà che un po' si somigliano. Il campo basso gioca decisamente meglio e il gioco spesso aiuta a risolvere i problemi. Mister Cudini punterà proprio sulla disciplina tattica dei suoi per tornare a casa, almeno con un punto. Vincere sarebbe un tocca sana. Risolverebbe quasi tutti i problemi, ma anche pareggiare andrebbe bene. Aiuterebbe moltissimo in vista dell'ultima del 2021, mercoledì prossimo, al Romagnoli contro l'Avellino. Bocche cucite sulla possibile formazione. Cudini non vuole avvantaggiare l'avversario. Dalmazzi e Di Francesco dovrebbero essere della gara, ma il condizionale è d'obbligo. Intanto la società, in vista del match contro l'Avellino, lancia la prevendita e la promo Christmas Family con uno sconto importante. Tribuna inferiore, genitore più figlio under 14 a 11 euro più 2 euro di prevendita. La questura di Campobasso ha denunciato ed emesso due d'aspo per la durata di un anno per due tifosi della squadra di calcio del Campobasso, 37 e 39 anni, per lancio di oggetti pericolosi nel corso di manifestazioni sportive. I fatti risalgono alla partita Campobasso Fidelissandria del 26 settembre scorso, nella quale dopo il gol del Campobasso, imputato dalla Fidelissandria a un mancato gesto di fair play, si scatenò un parapiglia tra i giocatori delle due squadre. Per questo episodio il giudice sportivo della Lega di Serie C aveva erogato una multa di 2.000 euro alla società del Campobasso. Poi le indagini condotte dalla Digos, la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio, che hanno permesso di individuare i responsabili del lancio di bottigliette d'acqua in campo. E adesso, con l'aiuto della regia, vediamo le schermate, tutti gli appuntamenti sportivi del fine settimana. Partiamo col calcio di Serie D, Girone F, la quindicesima giornata. C'è un solo anticipo, domani alle 14.30, notaresco Monte Giorgio, tutte le altre, anche il vasto Girardi contro il Nereto, giocano domenica alle 14.30. Quindicesima giornata anche in eccellenza e pure in questo caso l'anticipo domani alle 14.30, Venafro, Real, Guglionesi, tutte le altre. Sono in campo domenica sempre alle 14.30. Adesso andiamo in promozione. Quattro invece in questo caso gli anticipi alle 15.00 di domani, Guardia Alfiera Campomarino, Ripalimosani, Juvenesi, Termoli 2016 Turris, Trivento, Spinete, tutte le altre domenica in campo. e invece per la pallacanestro di Serie A1 femminile c'è un match che si gioca oggi alle 18.30, Empoli, Costa Masnaga, Magnoli a Campobasso Faenza invece domenica alle 18.00 e domenica e le altre tra domani appunto e domenica. Il Futsal di Serie A2, Calcio 5 Serie A2, Academy Pescara CLN Cus Molise domani alle 15.00, giocano comunque tutti domani. e infine Futsal Serie B, domani Itria Chaminade e anche Sporting Venafro Canosa, domani comunque tutti i match di Futsal di Serie B. Ultima giornata dell'anno 2021 per il mondo del Futsal, Sporting Venafro ospita il Canosa come abbiamo visto, in esterna CLN Cus Molise e Chaminade. Tutti i dettagli nel servizio di Vincenzo Ciccone. Ultimo sabato di gare per il 2021 nei tornei nazionali di Futsal, che tra Serie A2 e B vedranno delle tre molisane in caso unicamente lo Sporting Venafro. Nel girone C di A2, col desiderio di riscattare lo stop arrivato contro le cosiddette di Genzano, c'è il CLN Cus Molise che va a far visita ad un'Accademy Pescara, seconda squadra del team di A1 del Futsal Pescara, che è penultima in classifica con soli tre punti all'attivo, ossia il successo arrivato in casa della Mirafin. Dalla loro il suo blu vogliono chiudere al meglio il 2021, in attesa di conoscere gli esiti del ricorso per il match contro la Roma finito in parità sul campo, rimanere a contatto col treno playoff. Sul fronte della Serie B per il girone G, per lo Sporting Venafro con l'intento umanitario per Domenico, il quintetto bianconero è chiamato ad ospitare la leader Canosa. Sinora sempre a segno, forte dei sette punti giunti nelle ultime tre gare, il team di Tavone, nello scenario del Palapede Montana, vuol proseguire il proprio percorso di tutto rilievo per provare a centrare l'obiettivo Coppa Italia. Va invece a San Michele di Bari la Chaminade per sfidare l'altra leader del torneo, l'Itria, team imbattuto come il Canosa. Con tre stop nelle ultime tre gare, il Rosso Blu devono cercare assolutamente di invertire una simile tendenza. Infine la palla a volo, vediamo prima il volley B1 femminile girone E, il match di domani, Capannori europea 92 Isernia alle 21. E poi il volley maschile serie B, girone L, campo basso contro il Galatone domani alle 18. Era l'ultima notizia per questa edizione del Tg di Teleregione. Grazie per aver scelto la nostra informazione che torna alle 19.30. Grazie.